Perchè se adesso viene uno di fratto, di grumo, di gallano, di qualcuno, e vede a voi che sono trinesi, come l'isabetta, viscono la donna, deve intuire la gioia che è dentro di voi, perchè adesso voi qua state, non perchè si usa così, perchè è la tradizione, perchè sentite che questa mamma riempie il cuore, oggi è la festa della nostra mamma, e noi veniamo perchè ci sentiamo amanti, non perchè dobbiamo, quanto è triste se voi... Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.